E siamo con il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per commentare le dimissioni del consigliere d'opposizione Natalino Consolato Caccamo. Sindaco, allora, un suo commento su questa iniziativa del consigliere Caccamo? Innanzitutto voglio ringraziarlo per il contributo che ha dato al comune di Agropoli con il suo impegno e la sua passione. Da me non condivisa, ma comunque ci ha messo del suo, l'ha fatto, credo, in maniera disinteressata, con grande grinta. Questo l'abbiamo dato tutti, quindi rispetto a questo percorso insieme che abbiamo fatto comune, insomma, lo ringrazio comunque. Gli faccio l'imbocca al lupo per il suo futuro, credo, sempre politico. Lui raccontava nella nota, e comunque ci siamo visti in comune, nella conferenza di Capogruppo, che voleva agire diversamente. da libero cittadino, ma sempre con grande impegno in politica, magari con un atteggiamento propositivo rispetto a tanti temi che ci hanno visto in battaglie su fronti contrapposti. Quindi per questo motivo, insomma, come ho detto, lo ringrazio per l'impegno. Gli faccio in bocca al lupo per il suo futuro politico e, diciamo, come gli ho detto, con una battuta di numeri di telefono non sono cambiati. Quindi se avrai qualche richiesta possibile per la città, io l'accoglierò, come ho sempre fatto, peraltro, con grande disponibilità. Quindi si attende il prossimo consiglio comunale per l'insediamento del nuovo consigliere d'opposizione, che a quanto pare è Mario Pesca. Sì, come sapete, il primo eletto della lista del Movimento 5 Stelle alle scorse elezioni amministrative fu proprio Mario Pesca. Consolato Caccomo era il candidato sindaco, quindi la legge prevede che il primo è il candidato sindaco non eletto. E poi, naturalmente, si va a prendere la lista. In questo caso l'unica lista era quella del Movimento 5 Stelle. Il primo eletto era Mario Pesca, che entra quindi al posto di Consolato Caccomo in consiglio comunale. Naturalmente a Mario, diciamo, i saluti e anche a lui, naturalmente, in bocca al lupo per il nuovo ruolo. E quando sarà previsto più o meno il prossimo consiglio comunale, sindaco? Ma credo che la prossima conferenza di capigruppo, che verrà fatta, credo, martedì, stabilirà anche la data del consiglio nel giro di, credo, 10, massimo 15 giorni. Se non ci sono necessità prima, verrà fatto il consiglio comunale. Grazie.